farvi vedere i pacchi Avon appena 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 arrivati ecco, e ce ne sono ancora tre da spacchettare, quando la piccola ricomincerà a dormire mamma li apre questo è uno dei prodotti, il vassoio, il vassoio della linea da te Alfama, bellissimo e questi sono gli altri prodotti, le scatole bianche 1 e 2 contengono altre due di questa che è la tazza con il filtro per i test fusi e abbiamo anche la teiera con filtro per i test fusi abbiamo un bellissimo set regalo a Inio con crema idratante, maschera in tessuto, dischetti per peeling e un bellissimo, ma veramente bellissimo beauty bianco e dorato per contenere il set abbiamo dei buonissimi bagno schiuma da un litro concentrati, basta uno di questi tappini sulla spugna vi lavate dalla testa ai piedi, orchidea, sempre orchidea, mirtillo e lampone, arance e cannella e vaniglia e orchidea, arance e mirtillo rosso e vaniglia e orchidea questi sono due bagno schiuma per bambini, frozen, c'è anche l'acqua di colonia, lo spray profumato per il corpo e lo scioglinodi e Avengers sempre per bambini, c'è anche l'acqua di colonia e lo shampoo questo è il burro di cacao ai new per chi ha le labbra molto rovinate questo è il burro di cacao al burro di cacao della Evoncare, nuova novità in catalogo questo è un illuminante viso tonelità argentata due bagno schiuma pallina natalizi bellissimi per piccoli regali, cioccolato e bacche e mandorla dolce la bellissima scatola portatè con tutti gli scomparti per mettere le bustine o anche i tè sfusi questo è il calendario dell'avvento con orecchini e ciondoli che vi mostrerò più avanti nelle stories e sul mio filo Instagram e ovviamente poi c'è tutta questa massa di cose che ancora devo spacchettare che vi aspettano alla prossima diretta